Fratelli e sorelle ci ritroviamo per celebrare questa Euccarestia nella festa di San Francesco d'Assisi che veneriamo come protettore della comunità nazionale italiana. Quest'anno una festa di San Francesco vissuta anche con un gemellaggio particolare, con la parrocchia di Santo Antonio quindi un segno della presenza francescana, ma una festa condizionata anche questa naturalmente dal Covid però sempre molto sentita e ricca di attività. Sì, la festa di San Francesco quest'anno cade in un anniversario particolare che è quello del capitolo di Pentecoste nel maggio del 1221 ad Assisi Francesco convocò tutti i suoi frati e in quell'occasione anche Antonio che si ritrovava in Sicilia a Messina risalì la penisola per raggiungere Francesco e così poterlo finalmente vedere di persona. E questo ha un pochino segnato le celebrazioni appunto con la traslazione dell'immagine di Santo Antonio che si venera nell'omonima parrocchia della Contrada Moio in questa chiesa dedicata a San Francesco dove è rimasto per tutto il periodo della novena. Abbiamo poi preparato una piccola mostra proprio per ricordare quell'episodio. Ovviamente non poteva non esserci anche un riferimento a Dante in questo ulteriore centenario dantesco e quindi siamo stati aiutati proprio nell'ascolto e nella comprensione del canto undicesimo del Paradiso. Ovviamente Francesco è il santo fratello di tutti ma anche il santo che più di tutti sentiamo legato alla questione ecologica e quindi nella chiesa di San Francesco c'è stato un bel momento di preghiera animato dal clan del gruppo Agessi Agropoli I, Bruno Di Luccio per il tempo del creato. E finalmente siamo giunti ad oggi, la giornata dedicata a San Francesco. Le celebrazioni di questa mattina e anche quella di questa sera, tutte svoltesi nella piena osservanza delle normative per il contornimento del Covid-19. Per questo motivo non c'è questa sera la processione con la Stato del Santo ma ecco la messa all'aperto, un invito a unirci al senso di gratitudine che animava il cuore di San Francesco e che anche nelle avversità invitava frateleone a trovare perfetta letizia. Così anche noi vogliamo cogliere in questo momento apparentemente ostile quel messaggio che il Signore in qualche modo ci lancia attraverso le circostanze che stiamo vivendo. La spiritualità francescana vive presente ad Agropoli dopo i festeggiamenti in onore di San Francesco in occasione poi della memoria liturgica del Beato Carlo Acutis sarà ancora una volta la Chiesa di San Francesco protagonista di un momento di preghiera dedicato a questo Santo dei Giovani. Il prossimo 12 settembre ricorre la memoria liturgica di Carlo Acutis qui abbiamo voluto l'anno scorso intronizzare una immagine opera di un artista locale, Giancarlo Pignataro che riproduce il volto famoso di Carlo e custodiamo una sua reliquia che ci è stata proprio donata nel pellegrinaggio fatto lo scorso anno ad Assisi. Avremo alcuni momenti quindi che la prossima settimana riguarderanno la figura di Carlo il giorno 11 una veia di preghiera il 12 un incontro con una sua rancella di Santa Teresa e poi la Santa Messa animata dai ragazzi mentre il giorno successivo, il giorno 13 ci ritroveremo per riprendere il cammino che già avevamo iniziato in passato ma poi interrotto a causa del Covid per la costituzione di una fraternità secolare francescana chiunque infatti volesse fosse interessato a questo progetto può rivolgersi a me o venire a questo appuntamento del 13 settembre. è uno strumento che credo sia prezioso non solo per ribadire il legame profondo fra la città e la comunità cristiana dell'Agropoli e la spiritualità francescana ma anche per riscoprire il grande messaggio di fraternità che Francesco ha lasciato in eredità al mondo e alla Chiesa.